Ciao amici, a chi non è capitato di sgarrare la dieta almeno una volta? Eh sì, e per rimediare ho faticato il doppio in palestra. Infatti, è quello che ci viene da fare, ma solo perché non sappiamo di questi 5 cibi che fanno dimagrire velocemente. Se volete conoscerli, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Spinaci. Gli spinaci contengono un principio attivo chiamato tilacoide, che aumenta il senso di sazietà. Infatti, agisce sulla leptina, l'ormone della sazietà. In più, gli spinaci hanno un potente effetto detox amico della linea. 2. Lenticchie. Le lenticchie sono l'alleato perfetto del dimagrimento. Sono un cibo proteico, saziante, ricche di minerali e vitamine come acido folico, ferro, potassio, tiamina e manganese. Il contenuto di fibre e le poche calorie le rendono light. 3. Avena. Ma se l'avena è calorica? Sì, ma c'è un trucco. L'avena è uno dei cereali più nutrienti e digeribili, tanto che viene usata come ricostituente. Per questo basta mangiarne poca e grazie alle fibre sazianti, nutre a lungo. Lo conferma uno studio condotto presso il New York Nutrition Obesity Research Center. Interessante, vero? Prima di vedere i due prossimi cibi, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche e abbonatevi al canale per sostenere con una piccola quota mensile il mio grande lavoro di divulgazione, trendy e sana. 4. Tè verde. Sono tantissimi gli studi scientifici sui benefici del tè verde anche riguardo al dimagrimento. I benefici sono dovuti alle catechine dei potenti principi attivi antiossidanti. Proteggono dal colesterolo, dalla pressione alta, dallo stress ossidativo, ma non solo. Secondo l'American Journal of Nutrition hanno un potere bruciagrassi, saziante e regolatore della glicemia e del metabolismo. 5. Zenzero. Anche qui è come poteva mancare. Amate anche voi questa radice dal gusto piccante e a ragion veduta. Infatti la Ayurveda lo usa come spezia curativa da secoli. Lo zenzero stimola il potere bruciagrassi del corpo, il metabolismo, la digestione, riduce il gonfiore addominale, l'infiammazione e anche il senso di fame. Tutto è dovuto allo zingiberene, il principio attivo che dà anche il gusto piccante. Ora che sapete di questi cibi vi farà piacere conoscerne tanti altri. Li trovate nel mio ebook Menù Bruciagrassi con tante ricettine sfiziose e amiche della linea. Il link è in descrizione. Adesso condividete questo video con tutti i vostri amici, stare in forma in modo naturale è possibile. Mangia sano e dimagrisci!